Buongiorno ci troviamo qui nella spiaggia di Capodorlando con Stefano e Zappalai che per il momento è in acqua a fare i pesciolini. Ciao a tutti da Capodorlando, vediamo tutta la bella vista, vediamo le impreole. Let's go to Capodor Milazzo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Questa è la grod di Enea, una specie di stalla, stalla marina, non so come possiamo chiamarla perché c'era odore di pecora, 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 pecora. E quella è l'entrata, guardate che entrata, sembra la reggia di Versailles.